Questo appuntamento è offerto da... 6-0-0-0-5-6-2 A Monasterolo di Savigliano in via Mazzini 20, ma li trovate anche in molti negozi del Cuneese, Saruzzese e Vallate. Per maggiori informazioni 0172 37 30 41. A Monasterolo di Savigliano Corimef, azienda a conduzione familiare specializzata nella piegatura, calandratura e curvatura a freddo di tuvi e profili vari. Produzione su misura di centine per serre, antigrandine, box-out e camper. Corimef, artigiani del ferro dal 1892. Competenza e cura per la qualità del prodotto. Ci trovi a Monasterolo di Savigliano in via Savigliano 9 oppure puoi visitare il sito www.corimefcurvaturatubi.com GM Service, vendita e installazione di serramenti, porte, portoncini e scale in tutta la provincia di Cuneo. Da 40 anni offriamo esperienza di produzione, montaggio e gestione del cantiere, con una vasta gamma di prodotti delle migliori marche per qualsiasi richiesta. Vari tipi di porte in legno e proposte di scale di diversi stili. Per la sicurezza della casa, portoncini blindati o in massello. Proponiamo soluzioni d'avanguardia come la ventilazione WMC, confort a finestra chiusa e il sistema oscurante a zero consumo energetico. GM Service, sede a Monasterolo di Savigliano in via dell'Artigianato 1, telefono 335 68 41 659. Esposizione a San Defendente di Cervasca in via nazionale 66, telefono 0171 85 7193. Sindaco Cavaglià sta per iniziare a Monasterolo una fiera in particolare di un prodotto tipico del paese. Sì, la nona sagra del pollo di Monasterolo, che ci tengo a precisare, la denominazione corretta è sagra del pollo e dei prodotti tipici locali. Questo l'abbiamo voluta inserire perché oltre al pollo che è praticamente il piatto principe della sagra, ci sono anche tutta un'altra serie di prodotti del territorio che vengono serviti durante le serate gastronomiche e ci tengo a dire, lo dico con orgoglio, che tutti i prodotti serviti durante le serate gastronomiche provengono dal territorio, da aziende del territorio, formaggi, salumi, il pollo naturalmente e tutto il resto. Naturalmente il vino non è del nostro territorio, quindi arriva dalle langhe, ma tutto il resto è prodotto dalle aziende del Monasterolo. È un momento di comunità dove si vede il valore aggiunto, a mio avviso, dei piccoli comuni, dove la gente si mette in gioco, si mette in campo con tanto lavoro volontario per far grande il proprio piccolo comune. Poi il pollo, diciamo che comunque è anche importante nell'economia di Monasterolo per una grande azienda che è presente sul territorio. Il pollo naturalmente è caratteristico sia come a livello di carne, per il macello della pollo monge, ma anche il settore avicolo perché abbiamo diverse aziende avicole per produzione di uova biologiche che quindi sono anche protagoniste di queste serate gastronomiche. Quindi l'invito è a venire a Monasterolo? Vi aspettiamo tutti numerosi a venirci a trovare dall'1 al 5 giugno a tutte le serate e i vari eventi per far festa tutti insieme. Negli eventi ce ne sono abbastanza, al venerdì facciamo la salata dei giovani, al sabato che è la sera più folta ci saranno i poli d'oro, la domenica sogno dei castelli e per terminare lunedì abbiamo Giuliano dei Baroni. A martedì ci sarà la solita mispo, la strella e quest'anno ci sono stati molti problemi da già quello che è successo a Torino. Possiamo ringraziare il nostro sindaco che ci ha dato una grossa mano e il nostro poliziotto che abbiamo, a Monasterolo, che ci ha fatto tutta la parte burocratica che non è indifferente. Certo, una problematica legata alla sicurezza. La sicurezza sì, perché dopo Spiazza San Carlo ci hanno richiesto molte normative di sicurezza e vigili del fuoco. È una cosa abbastanza impegnativa che ringraziando siamo riusciti, con la collaborazione di tutti, siamo riusciti a farla. Certo, comunque come chiedevo già prima al sindaco, una sagra è un momento di unità, di festa per un paese. Dobbiamo ringraziare sì che la popolazione viene e poi tutti i giovani della Proloco e tutti quelli che ci danno una mano, perché serve tutto, dal più piccolo al più ecchio, ma serve tutto. Questo appuntamento è stato offerto da... A Savigliano, Macelleria Gramaglia, da oltre 54 anni, carni di produzione propria senza glutine, farina e latte. Gli animali provengono dal nostro allevamento di Monte Oroero, tutti capi femmine da macello, pollo felice, maiali e vitelli, allevati a terra con mangimi naturali. Macelleria Gramaglia, via Alfieri 5, Savigliano. Telefonare al 339-600-562. A Monasterolo di Savigliano, caseificio Mellano, dal 1939, produzione di formaggi di alta qualità, con latte proveniente dai piccoli produttori delle vallate cunesi. Prodotti di punta, il tomino fior di dieta, la ricotta, le tome nostrali, il burro e il grana padano di nostra selezione. Tutti i prodotti si possono acquistare allo spaccio a Monasterolo di Savigliano, in via Mazzini 20, ma li trovate anche in molti negozi del cuneese, saluzzese e vallate. Per maggiori informazioni, 0172 37 30 41. A Monasterolo di Savigliano, Corimef, azienda a produzione familiare, specializzata nella piegatura, calandratura e curvatura a freddo di tubi e profili vari. Produzione su misura di centine per serre, antigrandine, box-out e camper. Corimef, artigiani del ferro dal 1892. Competenza e cura per la qualità del prodotto. Ci trovi a Monasterolo di Savigliano, in via Savigliano 9, oppure puoi visitare il sito www.corimefcurvaturatuvi.com GM Service, vendita e installazione di serramenti, porte, portoncini e scale in tutta la provincia di Cuneo. Da 40 anni offriamo esperienza di produzione, montaggio e gestione del cantiere, con una vasta gamma di prodotti delle migliori marche per qualsiasi richiesta. Vari tipi di porte in legno e proposte di scale di diversi stili. Per la sicurezza della casa, portoncini blindati o in massello. Proponiamo soluzioni d'avanguardia come la ventilazione WMC, confort a finestra chiusa e il sistema oscurante a zero consumo energetico. GM Service, sede a Monasterolo di Savigliano, in via dell'Artigianato 1, Telefono 335 68 41 659 Esposizione a San Defendente di Cervasca, in via Nazionale 66, Telefono 0171 85 7193 Grazie a tutti i nostri sposti di Cervasca, in via dell'Artigianato 1,